Anche il prete è dalla nostra parte tutta sera e siamo messi d'accordo perché le campane suonino proprio nel momento in cui bravo compagno, compagno operato, un po' in più molto compagno, perdoni, a berli, a berli, a berli, a berli, compagni piccoli, quando siete grandi, compagni avvicinatevi al comizio che sapeva avere inizio sulla splendida piazza che abbiamo avvenzato proprio giusto per quest'oggi, avvicinatevi, non abbiate paura che quando ci vengono abbiate i bottini e i bicchieri, ci vende l'arte confezionata e preparata, avvicinatevi compagni. E' arrivato il cantastore, per farevi sentire la storia di Salvatore Giuliano, dita e morte di Salvatore Giuliano, bandito da Montelevri, lo bandito Sicilia, le pagine niguri, bianche, le pagine bianche, bianche. Voglio cantare con senso sereno, tutto che giocatrice gioiano, l'uomo che pisse e dalle menti meno. Ficite male sottami e so male. E per dire che a due, un pur danti l'on titolato, re, re, re. di lì briganti. Chi ce la vuoi raccontare questa storia? Il corpo di Salvatore Giuliano che era seppellito per 60 anni? Pagni? Pagni! Il corpo di Salvatore Giuliano che era seppellito per 60 anni? Proprio ora, il 20 ottobre del 2010, il cadavere, l'ossa, a pulveri, di Salvatore Giuliano, è stata portata nuova alla luce. Riesce ma, per vedere se il cadavere che si trova in questa tomba è il cadavere di Salvatore Giuliano, oppure no. Lo cantare dal video alla luce della storia, l'uomo che si trova in questa tomba è la fonda è la nonostante. Il cibo è stato portato, la storia è stata portata goal alla luce di Salvatore Giuliano, oppure no. e muovere il sol beh, la cosa che mi ha colpito comunque leggendo il vostro invito e anche quello che avete scritto sui documenti quello che mi colpisce è che io penso che è un po' venuta l'ora per ridare valore ad alcune cose cioè vabbè che siamo in un mondo totalmente immerso nel consumismo totalmente immerso nel sistema produttivo da non meditare più nessuno medita, nessuno si ferma più no? dobbiamo correre per andare ad acchiappare chissà che cosa io ancora questo non l'ho capito cosa stiamo rincorrendo e invece una meditazione sul lavoro come la proponete voi sul lavoro come valore come valore non solamente come accumulo di denaro e vita stressante insomma penso che è una buona cosa mi è piaciuta questa è stato un'ottima impostazione ma soprattutto un ottimo messaggio da dare alla comunità anche perché Gianluca ha voluto lanciare un messaggio diverso fuori anche dal discorso politicizzato ecco questo mi è semplice assolutamente sì oggi poi durante il convegno abbiamo ampliamente parlato di tutto ciò ma io voglio a Nino perché sono rimasto veramente impressionato della performance di ti chiamo Nino di Nino e per un'ora ha raccontato cantando recitando suonando saltando e danzando la storia di Giuliano e il bandito Giuliano senza avere una cosa che io a me è rimasta impresta senza avere un po' di fiatone Nino non hai avuto un po' di fiatone fai un allenamento particolare sì un allenamento quotidiano me lo puoi pure insegnare a me questo non riesco a stagliare le scale beh diciamo che io vengo da una tradizione che la si potrebbe definire dell'attore atleta atleta della scena che è una tradizione molto antica una tradizione molto antica che risale come minimo alla commedia dell'arte ai comici dell'arte del settecento e che è un po' in alternativa al teatro diciamo borghese al teatro di palcoscenico dove ritroviamo il pari rilassamento secondo me morale etico che abbiamo nella società perché è vero che l'arte non deve riflettere la società perché tutto riflette la società se tu stai fermo quella ti riflette ma l'arte e il pensiero consistono nel reagire invece alla alla realtà per per poter interagire con essa per poter non morire schiacciati dalla realtà tutti i temi che voi insomma ho visto che trattate e che proponete giustamente l'arte l'immaginario l'immaginazione come proprio alternativa quasi come antidoto medico quasi farmacologico proprio per reagire all'appiattimento avremo modo adesso di vederlo poi sicuramente sarà un immenso onore di averti di nuovo qui a Pianopoli in questa in questa cittadina per altre tue bellissime storie mi fa piacere io ho avuto modo di seguirti pure tramite diciamo tramite web su su youtube e la storia del del brigante musolino e tant'altro insomma la canzone la canzone del come si chiama la canzone del pesce spada ah si la canzone del pesce spada si insomma è tutto un teatro legato nulla è casuale diciamo nella mia arte tutte le storie sono finalizzate proprio alla crescita umana secondo me io tento poi il mio lavoro umile quotidiano è questo però secondo me cioè io spero sempre una cosa spero che un ragazzo vedendo i miei spettacoli possa avere quella emozione quella stessa emozione che io ho avuto quando avevo circa 7-8 anni e sono stato folgorato da un attore che è venuto a recitare a scuola a scuola è sicuro che non soltanto il ragazzo ha avuto l'emozione questa sera io personalmente ho avuto una forte emozione e che questo evento qui di vedere una persona che dà tutto se stesso non all'accumulazione consumistica o capitalistica ma che dà tutto se stesso all'arte totalmente perché un artista deve darsi totalmente all'arte proprio rischiando di tutto e di più e che questo possa contribuire proprio alla crescita dell'uomo dice vedi forse se la nostra energia la mettiamo in altro che non nello stress sistematico quotidiano forse la storia può prendere una piega diversa e che